Il crowdtesting è una metodologia molto efficace per testare applicazioni mobile e web prima di andare live. Nell'app Quality Peel di oggi ti dirò 4 motivi per cui dovessi integrarlo già in fase di sviluppo. Primo motivo, scopri i defect che puoi non aver notato. Il crowdtesting ti aiuta a identificare velocemente difetti critici che sarebbero altrimenti troppo costosi o time consuming da trovare con test classici. Secondo motivo, sfrutta il test da una nuova prospettiva. Avere persone con una provenienza demografica diversa e diversi background aiuta a far emergere difetti che potrebbero essere persi da chi si vede la stessa applicazione per settimane. Terzo motivo, è veloce. I risultati si possono ottenere anche in soli 3 giorni. Quarto motivo, si adatta molto bene con i tuoi processi di test e sviluppo classici. È possibile usare il crowdtesting in diversi modi, in processi waterfall e in processi agile. Puoi usarli prima dei rilasci ma anche per testare il mock-up della tua applicazione. Per l'App Quality Pill di oggi è tutto. Se vuoi approfondire il tema non esitare a scriverci a info.chioccilaapp-quality.com oppure leggi l'articolo sul nostro blog. Grazie per averci seguito e alla prossima Pill.